Ciao, video veloce sui miei due acquisti Avon e Sephora, volevo dire scusate ma mi è arrivato Avon e Sephora insieme per cui stamattina sono un po' così e nulla, ora vi faccio vedere velocemente cosa ho acquistato della nuova linea di ombretti in questa bella scatolina li ho già aperti così ve li faccio vedere bene allora, il primo è questo qui blu, un blu, sì, che è glitterato ed è il numero 18 e si chiama Pool Party e quest'altro verde, sempre glitterato, della stessa linea che è il numero 11 ed è il Break the Bank sono i primi acquisti che faccio da Sephora e gli ho ordinati online mi sono piaciuti solamente vedere la foto sul sito e ho voluto proprio acquistarli sono proprio belli glitterati, anche quello blu sono fantastici molto primaverili e niente, volevo condividere con voi questo acquisto e vi mando un bacione, alla prossima, ciao!